Le mie sculture sono create principalmente in acciaio inox e ferro. Sono delle sculture prese da materiali standard, dalle forme di tubolari, lamiere profilati, freddi, freddissimi. Dentro di me voglio sempre creare qualcosa di particolare, qualcosa di movimento, di libertà. Per quello uso tantissimo la figura della farfalla, dei cavalli, dei guerrieri, delle moto. È un qualcosa che mi esce internamente. Creo queste sculture con veramente la passione, perché è una fotografia interna, perché io non faccio disegno. Io parto inizialmente da quello che ho in testa e creo la scultura vedendola già finita, perché è un qualcosa che mi fa star bene, è un qualcosa che mi dà senso di libertà. Le mie sculture principalmente sono quasi tutte rotanti, diciamo, ruotano su se stesse. Anche questo per dare più dinamismo, più elasticità a quello che si può interpretare, vedere. Anche questo è sempre un qualcosa di movimento, un movimento che per me è principalmente importante. A volte inserisco anche dei fregi di vetro o altri particolari, però principalmente sempre acciaio inox e ferro. Un metallo molto, molto duro, freddo, e riuscire a plasmare questo metallo, renderlo all'apparenza leggero, leggero è una cosa che mi dà molta soddisfazione. Credo che sia una cosa bellissima poter esprimere le proprie sensazioni in materiali così, duri.